Con la sentenza assicuriamo la tutela assoluta del marchio, del prodotto. Adesso dobbiamo intensificare i controlli e dare anche nei confronti dell'Unione Europea un suggerimento di modifica del regolamento per far sì che i stati membri dove si consuma, dove si distribuisce questo prodotto, debbano intervenire per assicurare un controllo che non ci sia usurpazione del marchio.